buona mattina allora iniziamo con lo stretching giusto la mattina poi avete problemi di prevenzione stretching se volete migliorare la mobilità stretching nel riscaldamento stretching giusto insomma questo stretching si mette sempre da tutte le parti ma sarà giusto sbagliato ma chissà intanto il telefonino come sempre lo mettiamo da verticale orizzontale perché arrivano le slide mettete qualche like qua e là perché iniziamo allora l'argomento di oggi proprio questo però non è lo stretching è qualcosa di molto più ampio che ci vogliamo di inquadrarlo meglio per capire un po' come funziona il nostro corpo anche in funzione di queste nostre dal tron esigenze allora intanto parliamo di flessibilità e quando parliamo di flessibilità nello sport dobbiamo consentire al nostro apparato muscolo scheletrico di fare qualcosa che ci servirà per un domani allora fare stretching o mobilità o flessibilità fino a se stesso che senso ha noi dobbiamo cercare ad esempio stiamo facendo un'attività sportiva che noi dobbiamo cercare di creare una dose di riserva superiore a quello che effettivamente ci servirà durante l'attività sportiva mettiamo il caso e stiamo facendo un'azione uno sport di combattimento quindi chiaramente in uno sport di combattimento io non so che cosa succederà esattamente in quel momento perché se l'avversario farà qualcosa che io dovrò ovviamente diciamo confrontarmi con lui in quel momento molto probabilmente il mio l'ampiezza del mio movimento sarà decisamente più alta di quello che nella mia testa era corretto quindi quando io mi vado ad allenare devo cercare di creare questa riserva superiore a quello che normalmente faccio per i sport di combattimento può essere utile per tutti gli altri sport a cosa serve lo stretching serve sicuramente a migliorare il ROM range of motion questo perché per tanti motivi lasciamo stare la prevenzione perché molte volte viene usato lo stretching come prevenzione quando invece molto bene sanno i bravi fisioterapisti i bravi preparatori che non è detto che lo stretching sia la panacea di tutti i mali quando abbiamo dei problemi in prevenzione molte volte servirebbe proprio non farlo lo stretching dipende dalla problematica però rientriamo su questo quando la nostra il nostro apparato muscolo scheletrico ovviamente ha delle problematiche perché ha degli attriti perché comunque ha una range of motion molto limitato chiaramente crea delle delle difficoltà per esempio la nostra andatura di corsa o di bici o di nuote e quant'altro anche molte volte la tecnica mettiamo nel nuoto la bracciata delfino a dorso a rana viene influenzata fortemente proprio dalla flessibilità che molte volte manca quindi questa slide vediamo che oltretutto ci viene consigliato che non deve essere mai troppa e questo troppo è anche questo un argomento importante molte volte si fa la flessibilità così perché bisogna farla ma non è detto che sia sempre utile andiamo sull'altra slide intanto l'allenamento della flessibilità questo è un argomento di training expert uno dei corsi di formazione del nostro percorso presenta che il focus deve essere soprattutto sul corpo muscolare sui tendini e sulle articolazioni dopodiché abbiamo varie modalità di stretching abbiamo già visto che ci sono delle modalità di stretching statico di stretching dinamico balistico o pnf ad esempio per lo statico non è detto che ci sia un numero di secondi corretto perché perché dipende dall'età dallo stato dell'allenamento e da tanti altri aspetti ad esempio per un bambino può essere efficace fare stretching per 10 15 secondi ma per una persona di 30 40 50 60 anni quei 10 15 secondi non servono a nulla stessa cosa se quella persona ha una alta ipertrofia molte volte vedo atleti che magari hanno delle masse muscolari importanti e fanno stretching come fanno i bambini ecco non serve a niente perché il grado di tensione che ha quel muscolo in quei secondi e con quella bassa intensità non viene per niente sollecitato a quel punto probabilmente è meglio proprio non farlo perché non si ottiene nessun risultato vediamo un'altra slide invece che ci dice che una cosa è importante ok fare lo stretching ma anche la decontrazione insieme alla contrazione devono essere coordinate quindi bilanciare le forze e come suggerimenti ci sono delle modalità cioè quando fare lo stretching di tipo statico e quando fare quello dinamico intanto se sei ancora collegato metti qualche like o condividi perché questo argomento di sicuro ti interessa anche i tuoi amici allora lo stretching statico sarebbe meglio farlo nella parte finale quindi molte volte si tende a non rispettare questa regola quindi si tende a fare lo stretching passivo statico quando si fa il riscaldamento invece in quel momento non bisognerebbe fare quello bisognerebbe fare lo stretching dinamico quindi si aumentare il range of motion ma in una fase dinamica coordinata mentre quello passivo va messo nel cooldown il cooldown è la parte finale dell'allenamento già questo abbinamento questa sequenza non intercambiabile è fondamentale per un'efficacia della flessibilità se noi la vogliamo considerare in termini ovviamente di efficacia di allenabilità chiaramente poi viene indicato che nel macro ciclo deve essere sempre presente e maggiormente nelle fasi iniziali quindi se vogliamo allenare come abbiamo visto in questo corso in questa sintesi del corso di training expert la flessibilità perché è sport specifica oltretutto quindi ci serve per migliorare qualunque tipo di nostra attività anche se solo stiamo facendo fitness o bodybuilding è comunque fondamentale perché poi lo stretch shortening cycle viene migliorato e quindi tutto diventa più efficace anche solamente un lavoro in palestra e quindi chiaramente bisogna organizzarla in quel modo bisogna farlo sempre sicuramente inizio stagione con più attenzione ma poi mai lasciarlo perché altrimenti il nostro corpo si riporta via gli adattamenti grazie ancora ci vediamo domani mattina alle 7 e un quarto 7 un quarto commenta dai anche qualche contributo dimmi se c'è qualche argomento che vuoi sentire quello di oggi me l'avete suggerito nelle dirette dei due tre giorni fa grazie a domani ciao 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 ciao